preghiera degli strumenti cerchio k attraverso marco a cura di vb guida psichica io spero che un giorno guardando a questo nostro incontro voi diciate o altissimo signore tu sei presente in me e mi hai degnato della tua voce della tua parola ed io come servo obbediente ho risposto in rapporto a quello che era il mio sentire in rapporto a ciò che veniva dal mio intimo essere o altissimo signore tu sei l'infinita presenza in tutto io avverto te ed ora che sono identificato in te poiché tutto è presente ho trovato la certezza la realtà di questa nostra unione o altissimo signore fa che non sia lontana per me questa consapevolezza fa che io possa sentire fin d'ora tutto questo o forse dovrò ritornare voi direte perché non ho superato delle limitazioni ma spero che aggiungiate sono lieto di farlo perché sono lieto di andare là dove posso essere d'aiuto dove posso essere di sostegno ai miei fratelli e spero che ancora aggiungiate altissimo signore fa presto a mandarmi da loro sento che hanno bisogno del mio amore del mio calore della fiamma che mi spinge non sottrarmi ancora loro fa che io possa andare ad aiutarli a soccorrerli a sorreggerli a sostenerli fa che io possa far cessare con la mia stessa esistenza col mio amore con la mia scienza con tutto l'essere mio il loro dolore che io possa indicare proporre loro la tua via possa io essere messaggero della tua luce o altissimo signore non sia fatta la mia ma solo la tua volontà e tuttavia ti dico che differenza c'è non sei tu forse l'infinita presenza che in me allora conducimi signore per le loro strade per le strade degli uomini fa che io non le disprezzi ma che le ami fa che io non disperda l'immenso patrimonio che tu mi hai donato ma che ne sia degno erede e che sappia metterlo a frutto continua